Ciao a tutti, questa edizione di X-Factor 2019 si è conclusa sono arrivati i terzi la Sierra, io pensavo che arrivassero secondi, vabbè ok sono arrivati i secondi i Buda e prima è arrivata Sofia è arrivata Sofia, Sofia ha vinto X-Factor, quindi quest'anno l'ho indovinato il vincitore anzi la vincitrice, quest'anno l'ho indovinato, non indovino spesso ho indovinato con Lorenzo Fragola ai suoi tempi si ha vinto Sofia, questa ragazza davvero molto giovane con anche questo inedito A domani per sempre che ha una bella canzone dai adesso vedremo cosa combinerà questa Sofia, vedremo come saranno le sue future canzoni vedremo se avrà anche questo successo discografico dopo, ma glielo auguro di cuore e niente, si conclude anche questo ciclo di video dedicato a X-Factor per quest'anno un saluto a tutti, spero che vi abbia interessato il video che ho dedicato a X-Factor in bocca al lupo comunque a Sofia, in bocca al lupo ai Buda, in bocca al lupo ai La Sierra in bocca al lupo a tutti i concorrenti che hanno partecipato a questa edizione di X-Factor perché davvero, alla fine mi fa piacere che abbiano un futuro felice tutti i concorrenti, ma in generale tutte le persone al di là che chiamarli concorrenti, spero che gli vada bene in tutto niente, ciao a tutti nel video